Benvenuti, cari follower. Prima di entrare nei dettagli, è da più di un anno e mezzo che vi forniamo informazioni esclusive e gratuite sulle notizie meteorologiche. Ho una semplice richiesta da parte tua. Voglio che questo video raggiunga più di duemila. Mi piace in modo da poter continuare con te per un altro anno. Grazie. Quindi, come vedi sulla mappa davanti a te, le zone colorate in rosso e verde saranno esposte a temporali molto forti a partire da domenica 7 luglio 2024. Questi temporali saranno molto forti e accompagnati da grandine con rischio di allagamenti, soprattutto all'estremo nord. Come potete vedere nella foto davanti a voi, nelle zone colorate in rosso scuro cadrà pioggia in quantità molto elevata che si avvicinerà o supererà la barriera dei 150 mm con rischio di allagamenti. Per quanto riguarda le zone colorate in verde, la pioggia cadrà a quantità che vanno dai 20 ai 100 mm e, come dicevo, la pioggia sarà accompagnata da grandine, vento forte e tempo molto brutto. Le zone interessate da questi temporali, a partire da domenica prossima, sono Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trento, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia Veneto, Emilia Romagna e maggiori dettagli. Restate sintonizzati nel prossimo video.